Ed è fin troppo facile, se vogliamo fare un collegamento col tema precedente, dire che Don Lorenzo Milani è stato un uomo che appunto ha testimoniato il Vangelo con tutta la sua vita. Noi vogliamo adesso riparlare di questa figura che è entrata tante volte nei nostri programmi con le sue vicende, con anche le sue croci imposte a volte proprio come per Padre Pio dalla Chiesa stessa, le incomprensioni ma anche tutto quello che è stato capace di donare in termini proprio di anticipazione dei tempi. Però non voglio oggi ripetere questi concetti che tante volte abbiamo raccontato appunto perché è il centenario della nascita di questo straordinario uomo italiano, figura della Chiesa. Voglio invece, ringraziando chi ci ha permesso appunto di avere l'occasione, scoprire l'uomo meglio di come lo si sia fatto finora. Lo possiamo fare grazie al professor Federico Ruozzi, che è professore di storia del cristianesimo e che è responsabile dell'archivio Milani, che ha appena dato alle stampe per le edizioni Don Bosco una raccolta 200 lettere di Don Milani, anzi di Lorenzo Milani, mi correggo giustamente. Ben trovato professore. Per l'invito grazie a lei e saluto gli spettatori. Noi sappiamo che proprio nel fine settimana avete avuto un grande evento a Firenze e nella sua Firenze, vogliamo dire così, rispetto a Don Milani, con figure molto importanti della società civile, della cultura e quant'altro. Però io voglio immediatamente dirle cos'è l'elemento chiave che lei ha scoperto della vita di Don Milani, di quest'uomo. Allora, solo una piccola precisazione, visto che poi se no l'editore poi mi scrive e l'editore appunto non è Don Bosco ma è Edibì e il Portico. Esatto, Edibì così e non è... Del gruppo. Del gruppo, esatto, del Portico. La raccolta abbiamo deciso di raccogliere una... Come sapete il Milani ha scritto, pur essendo morto giovane, a 44 anni nel 1967 ed è per questo che quest'anno tanto se ne parla perché è il centenario della morte, ha scritto tanto, ha scritto tantissimo, anche tantissime lettere private. Nell'Opera Omnia che era uscita nel 2017 e che avevo curato le lettere raccolte erano oltre mille. Allora perché nel 2023 fare un... riproporre un'antologia di 200 lettere? Beh, perché innanzitutto per accogliere un desiderio e una volontà di Adele Corradi. Adele Corradi, come sanno i telespettatori e le telespettatrici, è una delle pochissime collaboratrici che Milani accettò di far salire a Barbiana e accettò di fare scuola ai suoi ragazzi. Adele Corradi è nata nel 24 ed è ancora in formissima nonostante l'età e era nata da lei questa idea di, nell'occasione del centenario, riproporre alcune lettere che lei riteneva particolarmente significative rispetto all'esperienza biografica esistenziale di Milani. Perché Milani è molto citato, si cita molto Lettera a una professoressa, però in realtà continua a essere poco conosciuto e in realtà poco anche letto. Come dicevo ci si concentra su alcuni slogan, alcuni pezzi di pagina di Lettera a una professoressa. Ecco, noi adesso ci vogliamo concentrare proprio su far conoscere di più quello che non è conosciuto. Quindi la prego proprio di andare al punto nuovo. Le lettere diciamo che permettono di capire un pochino di più l'uomo, Milani, il prete Milani e non c'è nulla di diverso rispetto alle opere pubbliche, cioè il Milani che noi conosciamo, cioè il Milani fortemente radicato alle pagine del Vangelo, un Milani radicale, anche forte nella scrittura, lo troviamo così come c'è in Lettera a una professoressa, e le esperienze pastorali lo troviamo anche nelle lettere. Però nelle lettere, facciamo una lettura diciamo così sineglossa, nelle lettere cogliamo degli elementi del carattere, della scrittura, del suo profilo, molto interessanti. Allora nelle lettere alla mamma scopriamo il Milani più intimo, il Milani figlio. Nelle lettere agli allievi, quando li manda in una sorta di Erasmus Antelitteram, scopriamo anche non solo il lato del maestro, ma anche il lato del padre, che si preoccupa di quello della lontananza di questi suoi allievi, che di fatto per lui erano figli, perché come sappiamo li mandava a Oxford a imparare l'inglese, li manda in Tunisia a imparare l'arabo, questo tutto negli anni 50 e 60. Scopriamo anche un lato che c'è nelle opere, ma viene in un qualche modo più nascosto, che è la grande ironia. Noi tutti noi pensiamo sempre a Milani in maniera come un monolite, dura e radicale, esattamente come le pagine del Vangelo, la sua lingua è sì sì no no, però nelle lettere emerge molto di più anche l'ironia, la grande ironia che tratteggia un po' tutte le sue opere, particolarmente le sue lettere. Nelle lettere alla mamma c'è questa famosissima frase, in seminario stiamo zitti in latino, e così ci sono battute che rendono appunto la scrittura e la figura di Milani non quel monolite che si vuole spesso tratteggiare, ma un uomo, anche fatto di grandi sofferenze. Se le leggete le lettere tutto d'un fiato, alle volte si ride, è anche un toscano, quindi usa anche un registro molto divertente, ma si può anche piangere. Perché? Perché scopriamo dalle lettere ancora di più la durezza della sua vita e la sofferenza che la Chiesa di quegli anni gli aveva provocato, a partire dall'esilio a Barbiana fino al non riconoscimento che non arriva neanche in punto di morte quando ormai è profondamente malato. E lui ne è consapevole. L'umanità quindi come un valore aggiunto nella figura di questo grande maestro, quanto crede sia importante ancora oggi questo aspetto nei nostri formatori? Beh, questo è fondamentale. Spesso la domanda che mi viene fatta è l'attualità di Milani. Ora, è chiaro che dobbiamo stare attenti a trasporre le cose che diceva Milani negli anni 60 oggi, però possiamo ancora tanto imparare su alcuni messaggi e la sua capacità come prete, come sacerdote, come maestro e come uomo di toccare i nervi scoperti della Chiesa, della società e della politica. Alcune sue battaglie sono ancora oggi un punto fondamentale. Ecco, professore, proprio quello che sta dicendo lei, io lo trovo anche in una lettera che mi ha molto colpito, quella a Carlo Weiss, un suo parente per parte materna, del 1947, perché ci sono degli elementi che non solo ovviamente smontano la vulgata che durò per tanto tempo che lui fosse comunista, cosa che ovviamente non era, ma invece aiutano anche noi a capire i tempi di oggi. E vi chiedo un po' d'attenzione, vi leggo questo passaggio. L'ateismo e il crollo dei valori spirituali non vengono mica dal comunismo. Il crollo c'era già da tempo, prodotto da chissà quante cause. Anche ai tempi delle invasioni barbariche, sembrava la fine, venivano giù col cumulo di errori paganesimo, barbari e arretratezza in tante cose. Distrussero l'impero che sembrava baluardo della civiltà. Così oggi vengono giù dei barbari e travolgeranno certo mille belle cose e istituzioni cui eravamo attaccati. Questo è anche il sentimento che proviamo in tanti e pensate quanti anni sono passati, quasi 80 da allora. Perseguiteranno certo anche la chiesa e i preti, ma se fosse bene forse, forse ce n'è bisogno. Ecco qui l'ironia che diceva lei. Porteranno peggio che il paganesimo, l'ateismo, un sistema economico che non arricchirà ma impoverirà l'Europa e coloro che voleva aiutare. Capisci, non possiamo essere comunisti, ma nemmeno possiamo guardare al comunismo come a un nemico da combattere. Casomai è un mondo da cristianizzare. San Gregorio Magno non era paganeggiante quando mandò da Roma i suoi monaci ad aprire le braccia della chiesa ai barbari perché il clero del posto si rifiutava di evangelizzarli. Ecco una grande lezione rispetto a tanti problemi che anche il nostro tempo ci ripropone. Lei che ne pensa? Ah certamente, quella è una delle lettere più belle anche perché è del 1947 che fa un po' il valetta anche in parallelo alla lettera pipetta del 1950 anche questa famosissima e anche alla celebre dedica che chiude esperienze pastorali ai missionari cinesi perché la sintesi è che è un po' possiamo dire così il messaggio della sua vita e questa sua aderenza e coerenza alle pagine del Vangelo. Allora lui dice certamente adesso in questo momento magari noi e lui assieme ai comunisti lottano assieme per difendere le ingiustizie sociali, per difendere i poveri ma in realtà il Vangelo lo diceva ben prima e quindi quando nella lettera pipetta lui dice ma il giorno che avremo sfondato insieme la cancellata di quel parco installata insieme la casa dei poveri nella reggia del ricco ricorda nel pipetta non ti fidare di me, quel giorno io ti tradirò perché appunto Milani aveva come riferimento da una parte il Vangelo e dall'altra appunto la Costituzione questi sono stati i suoi fari e il Vangelo ben prima di tante altre ideologie guardava la giustizia sociale e la sua vita è stata appunto una profonda e coerente adesione al Vangelo e questa sua radicalità chiaramente come sappiamo tutti lo ha anche pagato perché la sua vita lo ha ricordato anche Papa Francesco nel 2017 quando è salito a Barbiana è dovuto appunto venire un Papa dall'Argentina per riconoscere che Milani è un figlio della Chiesa cosa che negli anni 50 e 60 era difficile da accettare grazie dunque al professor Federico Ruozzi vi ricordo la raccolta 200 lettere di Lorenzo Milani e di B.Editore e noi caro Toni credo che ci siamo davvero abbeverati oggi a una fonte cristallina per tutti dagli studenti ai professori a chi è sfiduciato rispetto al nostro tempo a chi magari vede la Chiesa con un occhio non tanto favorevole e amabile ce n'è davvero per tutti davanti a questo gigante che non è solo italiano ma travalica appunto tutto quello che abbiamo già voluto sottolineare grazie professore grazie a lei arrivederci e naturalmente è il momento di fare una pausa o come dice Toni tiriamo il fiato